Grazie a tutti. In un primo momento facemmo un progetto nei fondi di Baia perché volevamo realizzare l'isola ecologica nell'ex macello comunale. Là non è stato possibile perché abbiamo avuto il progetto bocciato dalla subintendenza beni ambientali, quindi abbiamo cambiato il sito. Cambiando il sito l'abbiamo predisposto verso la traversa di via Boccaccio, una delle vecchie traverse di via Lungolago. E a fronte di questo nuovo progetto, perché noi abbiamo un finanziamento di circa 85 mila euro dalla provincia di Napoli, abbiamo fatto un grosso sforzo, in particolare il sindaco Germano, hanno fatto un grosso sforzo per non perdere questi finanziamenti. Questo perché? Perché nel momento in cui è partita la raccolta differenziata, per ottimizzare il servizio, ovviamente noi abbiamo bisogno, su tutto il territorio di Baguri, di circa tre isole ecologiche, disposte in vari punti della città. Quella su questa traversa di via Lungolago poteva risolvere il problema della raccolta per carta, plastico e multimateriale? Sì, in effetti rientra in un ragionamento, giustamente, come dicevi tu, perché questa isola ecologica era predisposta per raccogliere vetro, carta, cartone e multimateriale pesante, lattine di acciaio, alluminio, queste cose qua. Però il Tar ha sospeso questa ordinanza che voi avevate già portata avanti? Sì, il Tar su una diffida fatta dai cittadini del posto, hanno fatto ricorso al Tar e quindi il Tar ha sospeso momentaneamente da farsi per la realizzazione di questa isola ecologica e ha fissato l'udienza per il 9 ottobre 2013. Ci sarà quasi sicuramente una discussione in Consiglio Comunale per ragionare su come andare avanti? Io penso proprio di sì, perché ovviamente l'opposizione chiederà di capire cosa sia successo per tutto l'iter brurocratico, perché noi abbiamo un progetto che è andato anche in appalto, è stato assegnato anche l'appalto alla ditta, aveva fatto un regolare bando di gara, c'è una ditta che ha vinto i lavori da realizzare per la realizzazione di queste isole ecologiche, al momento è tutto fermo, ma adesso dobbiamo aspettare che il Tar si pronunci definitivamente il 9 ottobre. Grazie a tutti.